Buongiorno! Che emozione il palco dell'Ariston, ma che emozione una sala stampa così! Tra l'altro mi è già andato qualcosa in gola, infatti avevo già iniziato a piangere, non so se è di buon auspicio. Ti immaginavi una sala stampa così, con tutti questi giornalisti, con quelli che sono collegati, quelli che sono nell'altra sala stampa? Lucio Dalla, siamo intorno ai 400 giornalisti collegati, te lo dico perché... Lo stai dicendo per farmi venire l'ansia? Sì, esatto, così sale. No, non me l'aspettavo, sono molto felice, sono molto riconoscente per essere qua, io penso sempre che la gratitudine e la riconoscenza debbano essere a fondamento dell'essere umano. Io sono molto molto felice, molto riconoscente ad Amadeus perché io sono qua e lo devo a lui. Il tutto è successo in una maniera magica perché magari voi potete pensare che dietro tutto questo c'è molto lavoro ma anche molta artificiosità. In realtà sono stata chiamata nella maniera più semplice, più naturale, più bella. Amadeus mi ha chiamato perché credo che sia stata una sua volontà, un suo desiderio e io mi sento una ragazza, ora vabbè una ragazza non so più da una decina d'anni, però mi sento molto molto fortunata e come ho detto all'inizio molto riconoscente. Grazie a tutti.